Ultima chiamata per i morosi del progetto case, poi tutto andrà all'Agenzia delle Entrate. Nei prossimi giorni partiranno ben 637 avvisi di accertamento relativo alle bollette del gas non pagate, per una somma di oltre 400.000 euro. Si tratta delle vecchie bollette, ha spiegato a Reteotto l'assessore competente Vito Colonna. Non sono nuove. Con questi avvisi, dice, noi avvertiamo per l'ultima volta chi deve pagare. Queste sono relative al biennio 2013-2014. 69 bollettini di accertamento saranno recapitate agli eredi dei proprietari dei contatori che risultano deceduti. Il Comune già da tempo ha messo in atto questa maxi operazione di recupero dei canoni non riscossi. Sono circa 3.000 le bollette del gas inviate per il momento agli assegnatari del piano case, a cui si aggiungono gli ultimi accertamenti esecutivi. L'assessore Colonna ha spiegato che l'obiettivo del Comune è arrivare al recupero delle somme dovute, per questo ci sarà pure più personale. Solo mandare le comunicazioni di pagamento ha costato alle casse comunali più di 3.500 euro. Agli assegnatari sono state inviate prima le richieste di pagamento e poi i solleciti. Quella che il Comune fa ora è l'ultima chiamata, poi partiranno le ingiunzioni. L'ultima ricognizione fatta ha permesso di individuare 637 assegnatari parzialmente o totalmente inadempienti, per i quali è scattata la notifica, con l'obbligo di far fronte al versamento delle bollette non saldate. Il Comune ha provveduto inoltre all'emissione di 1.334 bollette relative ai consumi di gas e acqua calda del terzo trimestre 2023, per un totale di 620.000, secondo i dati del SED. L'assessore specifica pure che non ci si accanirà con le famiglie in difficoltà economiche, ma chi può deve pagare. I nuclei disagiati vengono già supportati dal sociale con contributi mirati, ma la regola è che bisogna intervenire in modo giusto, garantendo la riscossione. Ad ogni modo, 4-5 unità di personale in più si occuperanno di tutto questo. Grazie a tutti.